non picchiarmi brutta merda hai paura stai scappando merdina vieni qui dove corri pezzo di merda pezzo di merda combatti davvero uomo non sarei fermo combatti ho sputato sul microfono dove 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 madonna conta gente c'è modi merda c'è modifare ciò che non 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 ciò che seguendo una mezza sega veramente peggio però non ha indicato poteva fare il pimpi un cosa gli è successo la faccia raga guardate la faccia della tizia guardate completamente rotta ma anche lui negozio edizione cassa voi siete malati non state bene con la testa lo dico c'è veramente cioè ma io vorrò parole ah eccolo oh ma vaffanculo un po' di merda me chi vincerà chi scenderà prima pezzo di merda come ha fatto scendere così veloce questo stupidi mammiferi stupido babbano marcio schifoso non perché faccio pagate non posso mai fare niente di giusto chi vincerà io ovviamente perché sono troppo forte ho la mira guardate guardate non riesco chi cade ucciso di certo non io quest'arma mi fa schifo eccolo senso ho mangiato malissimo sto continuando a star nutire oggi cioè vabbè ho star nutito due volte in realtà e mia mamma ha preparato dei ravioli per la cena dei ravioli quelli di giovanna rana giovanna rana aspetta si chiama giovanna rana di giovanni rana vabbè di un certo signor rana freak like me allora tua madre una abud te lo dico te lo dico non stiamo neanche in partita e ci stiamo scaldando e tu fai questo meriti cosa non lo dico meglio sta arrivando un nemico attenzione in alto ti sposti stupido via ma lui perché è arrivato e si è messo davanti a me non ho capito ma si può cosa anche io voglio ma cosa sto assistendo no me l'ha fatto fare figo figo sì che sono buoni i funghi blu sicuramente l'ho sprecato uno sicuramente non ci fanno male segnate momento 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 se avessi mirato tanto così più su l'avrei preso in testa e arriva la regina dei cubi minchia ragazzi avete studiato guarda come fa con la testa perché vai via non ti piaceva questo massaggio torturare i bambini sicuramente gli occhi ovviamente sono verdi come i miei perché sarò io questo personaggio qua e torturerò tutti quelli che ci sono da torturare brutto bastardo ha fatto il giro non so se ne è lui non mi sono accorta ho le maniche mi sembra di averle sapete dove? nel culo di un non so cioè mi sento la mia mobilità veramente mi sento così ve lo giuro non sto scherzando ok non lo facciamo ridere ragazzi stiamo attenti vai via io lo mi faccio mamma mia questo gioco dai te la fai franzo grande ma dai no non ne voglio più alberi mi prego oh grande eri l'ultimo porco diablo con questi qua noi possiamo fare sia le bombole una balena cosa? guardate qua qui 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 sarà che dice le cose serie e poi mi una balena ma quale è la balena? te lo giuro era lì è appena passata non questo è uno scuola me mi è la mia ma è la mia mi è la mia